buongiorno a tutti buongiorno agli appassionati del mondo equestre e a tutti i frequentatori del salone del cavallo 2020 gli appassionati del mondo del reining equestre in generale nostro italiano come ben sapete causa covid 19 quest'anno non avrà luogo il salone del cavallo ma dovremmo accontentarci di una virtuale del mondo virtuale che ben un bel sostegno ce lo dà per chi non mi conosce io sono claudio risso appassionato del di reining da ormai più di 30 anni frequento le gare italiane le arene di tutta italia e niente sono qui per rispondere a qualche domanda qualche quesito posto da appassionati del mondo equestre come come il sottoscritto e andremo a vedere cercheremo di rispondere in serenità come si suol dire alessandro che mi chiede lei che nel reining da tantissimi anni e come allevatore e dirigente ha già vissuto il tonfo delle crisi della crisi economica la mia prima la sua prima domanda è mi sembra le sembra che questi ultimi due anni del settore stesse il settore si stesse riprendendo sì ti devo dire alessandro sì grazie a un programma di gare che avevamo attuato ormai da ben due anni e dovevo proseguire nel 2020 e 2021 2022 con aiuto di sponsor di big sponsor nel 2018 ma già nel 2017 il settore era in netta ripresa grazie alle comunicazioni durante l'assemblea dei soci che avevamo fatto nel 2017 a febbraio dove eravamo andati a spiegare l'intenzione dell'associazione italiana reining del cavallo da reining di organizzare nel 2018 un big event il futurity da 600 e più mila dollari di montepremi ad come ben tutti siete stati al corrente questo ha fatto sì che già dal 2017 il mercato si muoveva il mercato dei due anni che avrebbero compiuto tre anni nel 2018 che potevano partecipare a questo big event quindi si è mosso tutto un mercato così nel 18 per il futurity del 19 così nel 19 per il futurity del 2020 solo che ora con questo lockdown della del covid 19 e dal 9 di marzo che eravamo tutti chiusi oggi per fortuna dopo due giorni al 4 maggio hanno ci hanno ripermesso di ricominciare ad addestrare i nostri cavalli e quindi si sta speriamo che si riprenda un po tutto la tua seconda domanda alessandro è questa botta di covid e questa botta di covid quanto più grave sarà secondo lei rispetto a quella della crisi del 2008 per l'allevamento da reining italiano ed europeo e per quanto riguarda gli usa e questa botta di covid non penso che sia la più grave della crisi del 2008 perché la crisi del 2008 è durata dal 2008 al 2015 16 e avevamo in piccola ripresa ci stavamo riprendendo quell'altra era durata 6-7 anni questa speriamo covid permettendo e la gente con tutte le precauzioni del caso mascherine distanziamento sociale che non di non ritornare di non ripiombare in una situazione come era ai primi di marzo metà marzo dove purtroppo ci sono state tante vittime speriamo di non di non ritornare indietro ma con l'apertura a pian pianino di tutti i vari settori come si starà facendo oggi che il 6 maggio da due giorni ne abbiamo ripreso a destrare un po i cavalli a rimontare un po i cavalli a rimettere in condizioni io penso che se non ci sarà un ritorno di covid la supereremo abbastanza più in fretta che la crisi del 2008 senz'altro in america il problema per quanto riguarda l'italia ed europa per quanto riguarda gli stati uniti so che non sono stati così accorti come noi nel fare il lockdown velocemente e ne stanno subendo adesso le conseguenze sono in piena crisi loro tuttora speriamo incrociamo le dita per i nostri amici americani che ne vengano fuori al più presto anche loro beatrice mi chiede ho un amico che è un piccolo allevatore appassionato e finora ha cercato di allevare con qualità solo uno o due puledri all'anno con discreti risultati quest'anno ha avuto delle difficoltà legate al movimento del seme fresco che è quello più utilizzato dei piccoli allevamenti e quindi non è riuscito a ingravidare le sue fattrici data la mia esperienza cosa gli posso consigliare ma data la mia esperienza io questo per me è un falso problema cara beatrice perché quest'anno nei vari già dai primi decreti c'era la possibilità per la filiera agricola di continuare sia ingravidare le cavalle spedire il seme recarsi nelle stazioni di monta a prendere il seme portarselo a casa se se chi tipo il piccolo allevatore che aveva la fattrice a casa per farsela fecondare dal proprio veterinario io non ho avuto problematiche né a spedire il seme né a far arrivare le fattrici a casa mia presso la mia stazione di monta perché era tutto autorizzato sicuramente con le dovute precauzioni con il distanziamento sociale ma la filiera agricola ha continuato ad andare avanti a fare il suo perché se si ferma se si se si ferma non ci potevamo fermare né a marzo né aprile né maggio con il gravidamento delle fattrici se no non avremo i prodotti l'anno l'anno successivo quindi è stato un falso problema poi ripeto siamo oggi 6 di maggio quindi è tuttora buona e valida la stagione di monta a me già successo in passato di ingravidare delle cavalle ai primi di giugno metà giugno fino al 30 giugno in gravido ci provo una cavalla abbiamo già avuto anche anni passati cavalle problematiche che non rimanevano gravide e ci abbiamo provato sempre fino alla prima settimana di luglio perché ripeto fino alla prima settimana di luglio il puledrino nascerà l'anno dopo se non a fine maggio all'1 il 2 il 3 di giugno quindi è più che è sufficiente e siamo in tempo quindi abbiamo ancora tutto maggio e fino al 20 o 30 giugno e siamo in piena stagione di monta ancora adesso quindi gente ingravidate le cavalle che tanto mantenerle a casa vuote costa uguale in più l'anno prossimo avete un bel puledrino che nascerà Nando il signor Nando mi chiede chi ha sofferto di più in questa situazione di Covid-19 i grandi allevatori che comunque hanno un giro maggiore ma costi molto più più elevati oppure i piccoli allevatori amatoriali Nando che ti devo dire questo questo Covid-19 ci ha colti tutti di sorpresa certo è che ha penalizzato tutte le attività dal piccolo allevatore al grande allevatore all'appassionato dal ristoratore e dal dal meccanico qualsiasi attività ne sta portando le conseguenze certo è speriamo che finisca presto e si vedrà poi la seconda domanda di Nando è rivolta all'IRBA se l'IRBA ha pensato di dare incentivi ad allevamenti che sono in difficoltà causa Covid-19 purtroppo questa cosa non è non è possibile in quanto l'IRBA è un'associazione che raccoglie i fondi che raccoglie per destinarli alle gare di cinque anni dopo e non può perché se destina i soldi ad affare del degli aiuti finanziari poi non li avrà per organizzare le gare quindi è una è una cosa non fattibile Orsens mi chiede si sente dire che l'anno prossimo avremo un calo delle nascite dei pulelli piuttosto elevato per quello che è il mio polso della situazione gli elevatori quest'anno in Italia in Europa si sono spaventati e hanno deciso di non coprire le fattrici o coprirne meno mi si chiede non penso sinceramente non penso che avremo questo calo così esorbitante delle nascite nel 2021 anche perché chi lo fa come primo lavoro secondo lavoro o comunque hobby pseudo lavoro se hai tre quattro fattrici sei strutturato per tenerle e hai le possibilità sempre se hai le possibilità finanziate di mantenerle tanto costano mantenerle vuote come gravide quindi se non ingravido c'è solo la l'unica differenza è il costo del dello stallone della monta io alimentare bene una cavalla per tutto l'anno per un anno ha un costo sui 3000 euro non e non ingravidarla non avrà il puledro l'anno successivo quindi una una monta di un super stallone uno dei dei top stalloni italiani con 1500 e 1700 e 1800 si compra e l'anno dopo hai un puledro che tanto con mantenerla vuota mantenerla piena ingravida ti cambia di 1500 e 1700 a conti fatti il puledrino che nascerà nel 2021 avrà un valore superiore se è una buona fattrice una buona riproduttrice una mamma che ha già prodotto io le mie le ringravido tutte quindi non avrò cali di nascite se riesco ingravidarle tutte poi si sa che un 10 per cento a volte non rimangono gravide ai 10 fattrici ne riesci ingravidare 9 ne hai 20 magari ne ingravidi 18 e così è io personalmente le mie saranno cerchiamo di ingravidarle tutte poi mi si chiede sempre da orsense se sì quali sono le motivazioni le gare ferme no no di certo perché i puledri che andranno a nascere l'anno prossimo non fanno le gare non è la motivazione delle gare delle gare ferme e tanto più questi puledri che andranno a nascere nel 2021 gareggeranno o nel 2024 o nel 2025 perché ci sarà già la tendenza di fare i futuri di a quattro anni quindi chi ingravida nel 2020 il puledro gareggerà nel 2025 è un è un investimento a cinque anni e in cinque anni ne possono cambiare di cose quindi non è questa la motivazione mi si chiede se si avrà se avremo un calo di qualità nei futuri di avvenire fra quattro cinque anni per il minor il minor numero di di nascite non penso perché come già ha spiegato prima nella risposta precedente non penso che avremo un calo così disastroso di nascite ma è certo è vero sì che qualche privato deciderà di non ingravidare la cavalla perché in 1500 o i 2000 euro in più o in meno mantenere la cavalla quest'anno di emergenza covid se già ha perso il lavoro o magari sono in cassa integrazione con il loro lavoro o l'attività prevalente non ha ha subito dei gravi danni l'ultimo pensiero è quello di andare a ingravidare la fattrice quindi perderemmo molti puledri prodotti da privati che hanno una cavalla o che facevano già magari un puledro un anno sì un anno no e quest'anno avranno deciso sicuramente di non ingravidare ma questo andrà a influire di un 15 un 20 per cento sulla totalità dei puledri che nascono in italia in italia si calcola che nascono dei 500 ai 600 550 puledri l'anno ma destinati e pensati creati gli accoppiamenti per il mondo del rening ne nascono circa 350 400 di questi 600 ipotetici 550 di questi 350 che nascevano negli anni scorsi avremo un calo sì o no di un 10 per cento penso ma non di più cavallo magazine mi chiede in questo momento c'è un diffuso ritorno all'orgoglio di essere italiani da uomo di cavalli qual è la sua opinione sulla crescita del sentimento italiano nel mondo delle gare di rening e del professionismo inteso nel senso più largo dagli allevatori ai cavalieri e ai proprietari covid potrebbe aver aiutato a rinvigorire il patriottismo tricolore in una disciplina che è da sempre fisicamente e mentalmente a stelle strisce sicuramente covid ha rinvigorito il patriottismo italiano il tricolore perché in un momento così difficile più uniti siamo più forza avremo nello sconfiggere questo mostro di virus di covid 19 che questa disciplina il rening sia da sempre fisicamente mentalmente solo stelle strisce non condivido pienamente perché voglio semplicemente dire che abbiamo avuto cavalli nati in italia allevati in italia e portati a gareggiare negli Stati Uniti ancora più di dieci anni fa e hanno vinto parlo del cavallo del nostro presidente che vinse quindi non è solo prettamente stelle strisce poi voglio dire aggiungere ancora che questa disciplina è nata negli Stati Uniti ed è vero nel 65 venne fatto il primo Futurity alle basi ed è nata è uno sport loro ma ormai da oltre 35 anni noi quest'anno sarebbe stato il 30 e sarebbe il 37esimo Futurity dal 1985 la prima edizione mi sembra che un po abbiamo contribuito anche noi italiani a far diventare grandi nel mondo questo bellissimo sport che è il rening certo è che ricollegandomi alla domanda certo è che questo covid ha contribuito al patriotismo italiano e a sminuire un po' quella che lei pensa che da sempre fisicamente e mentalmente sia solo stelle strisce forza Italia e forza Europa che ce la faremo anche contro il covid il mio cavallo chiede che danno sarebbe per voi se non si riuscisse a disputare il Futurity 2020 bella domanda avete già in mente qualche strategia per recuperare nel malaugurato caso che questo avvenga certo è che se come elevatori se non riuscissimo a fare il Futurity 2020 i cavalli di tre anni quest'anno non farebbero gare e andrebbero tutti quanti nel 2021 come uscite come prime gare come consiglio come Vice Presidente come ho parlato ancora ieri tutti i giorni ci sentiamo col Presidente Cuoghi siamo più che speranzosi di fare il Futurity 2020 a novembre pensiamo che sarà novembre dal 20 al 29 quindi sentendo le notizie oggi del 6 maggio dopo due giorni di parziale riapertura non totale ma parziale riapertura si è più che speranzosi già il ministro oggi sentivo del turismo è più che speranzoso che tutti gli italiani andranno al mare quest'anno faranno le vacanze e se faranno tutti gli italiani le vacanze come ci è stato detto oggi vuoi che gli italiani amanti del raining non facciano il Futurity siamo più come ripeto siamo più che speranzosi che riusciremo a farlo neanche un malaugurato caso che questo avvenga cioè che non si potesse fare certo è che se fosse solo da spostare di due o tre mesi rifare il 4 anni a febbraio o marzo potrebbe essere un'opzione ma sinceramente non ci stiamo pensando perché siamo più che speranzosi di riuscire a farlo Westerstein mi domanda Claudio Risso sinonimo di raining in tutto il mondo sin dai primi anni 90 iscritto alla NRAC proprietario, allevatore, nominator, espositore, mentore quattordicesimo nella lista NRAC leading owner dal 2019 nella Hall of Fame NRAC e tralascio per non annoiarvi tralascio gli innumerevoli titoli conquistati nelle arene di mezza Europa non hai mai subito una battuta d'arresto nella tua vita equestre ti fermerà questo covid? bella domanda dei nostri amici cavalli ci deve sempre occupare quindi anche durante questo periodo di covid dal 9 marzo l'unica differenza che non abbiamo montato giustamente non abbiamo né montato né addestrato i nostri amici cavalli perché non era possibile ed era meglio soprassedere per non andare a creare problematiche se qualora succedessero degli incidenti ci siamo dovuti comunque occupare, metterli in giostra, farli girare alla lunghina io avendo un treadmill con acqua, un tapirulano con l'acqua ginnasticavamo 5-6 cavalli tutti i giorni per 25-30 minuti nel tapirulano con 30-40 metri d'acqua da farsi da mantenere il tono muscolare in forma covid o non covid? qui quando hai una scuderia c'è sempre da lavorare per adesso il covid l'unica differenza che ha l'unica battuta d'arresto sono le gare che non siamo riusciti e non so quando si potrà riprendere con l'attività sportiva a tutti gli effetti speriamo di riniziare quanto prima se non prima sicuramente primi di settembre ma sarei speranzoso già dai primi di agosto visto che il ministro del turismo ha comunicato proprio oggi che gli italiani le vacanze le faranno al mare chi al mare, chi al montagna, chi al lago il distanziamento sarà doveroso ma minimo di un metro e noi nel mondo equestre se anche dovremmo fare le gare con meno spettatori tanto con le dirette televisive, con il live stream non è un problema, i nostri appassionati ci potranno seguire e sarà l'importante riprendere con l'agonismo io sono speranzoso che magari fine luglio, i primi di agosto ricominceremo covid o non covid Mauro Penza mi chiede caro Claudio in sintesi tu che hai tanta esperienza in questo mondo in questo nostro mondo sportivo come è stata gestita secondo te in generale a tutti i livelli la partita dell'equitazione durante questa emergenza covid 19 ma questa emergenza covid 19 è stata gestita penso al meglio nel miglior modo perché con tutte le problematiche che avevamo con gli ospedali straintasati di pazienti covid è stata giusta l'opzione e la necessità di fermare in primis tutte le attività sportive le gare e gli assembramenti di persone in secondo rallentare e diminuire e poi fermare l'addestramento dei cavalli perché non dovevamo prenderci il rischio che ci succedesse qualcosa cadute da cavallo che ti infortuni devi correre in un altro ospedale oltre a intasare gli ospedali rischi di infettarti di covid 19 se già sei stato uno dei fortunati a non averlo quindi per me è stata gestita questa partita nel modo migliore che si poteva poi sai ogni emergenza ha sempre i suoi risvolti nel senno del poi sono piene le fosse bisogna vedere se ci daranno degli aiuti se tramite il CONI il CONI poi la FISE e poi gli enti preposti potranno aiutare quei centri prettamente sportivi dove l'attività è stata sospesa per due mesi completamente quindi un aiuto dovrà essere dato o a fondo perduto a quelle scuole di equitazione dal reining al saltostacoli a tutte le discipline parliamo noi del mondo del reining parliamo per il nostro mondo sicuramente bisognerà sensibilizzare la federazione che dia degli aiuti a fondo perduto tramite il nostro governo tramite in primis il CONI che sovvenziona la federazione e quant'altro spero che se arriveranno gli aiuti saranno più che consoni e equi da dare a quelle scuole di equitazione colgo l'occasione di salutare tutti gli amici del Salone del Cavallo 2020 online un arrivederci e un in bocca al lupo a tutti ci vediamo presto forza e tutti uniti sconfiggeremo il Covid avanti tutta grazie a tutti